Ma perchè ti devi mettere dentro di me quando devo fare la intro, porca misera, ma vattene... Ma non mi interessa... Ma vattene via, ciao a tutti ragazzi, sono in filtrato... Ma calmati... Vabbè, possiamo iniziare? Sì, sì, vai, va... Ok Ciao a tutti ragazzi, sono in filtrato, è bene questo nuovo video Oggi siamo con il nostro compare Andre nelle Egg Wars Il bello è che ci hai anche dovuto pensare due volte Allora, eccoci qua, siamo nella stessa mappa e nello stesso team di quando avevamo vinto l'altra volta nel video Comunque se mi sentite un pochettino sboccare perché sto registrando questo video subito dopo aver finito di cenare A cena ho mangiato mezzo chilo di gnocchi fatti da mia nonna No, ho già undici diamanti Di già No, è overpower! Occhio che ci sono due light blue Sì, sì, li ho visti, ma non hanno manuciana... Ma tanto... Non hanno neanche l'armatura poi Ma il bello è che non mi hanno neanche attaccato Eh, evidentemente a paura, è stato so ucc... Ah, è un light blue o un verde? Che è solo dal tonico un po'... Ah, ok, è light blue Intanto... Oh, lo so se... Oh, aspetta, aspetta Non è riuscito a buttarmi giù Sono riuscito a non cadere Ok Gli ho distrutto... Gli ho distrutto con l'uovo, gli ho distrutto con l'uovo Ok, gli ho distrutto l'uovo Gli ho distrutto l'uovo in light blue Dai che li ha mazzotti due che non c'hanno un... Non c'hanno un bel... Non c'hanno un... Non c'hanno... Ha preferito buttarsi quell'altro Ho eliminato un team da solo, praticamente Ok, adesso che ho... Che ho... Adesso che ho eliminato i... I... No, mi hanno buttato giù con sei diamanti Porco Bene Ecco Allora, Viola stanno... Stanno iniziando a proteggere adesso il loro uovo Ma sai che faccio? Stanno andando anche a riusciare Ma tanto, ma... Ma cosa ne sono accorti? Ma cosa ne sono... Uno l'ho one-shotato Però questo qua è messo bene Questo qua è messo... Ci credo, l'ho picchiato io Questo qua è messo bene Questo qua è messo bene Però Uno... Ci credo che uno l'hai distrutto Perché uno l'ho picchiato io Malamente Però ha perso un... Perché ti hanno ucciso? Sì No Sì Ma sta zitto che ho eliminato i light blue da soli Almeno ho avuto il coraggio io di andarci Quindi sta zitto Sai, io non volevo perdere undici diamanti Allora, comunque dobbiamo prepararci tantissimo contro il Viola Ma in tutto questo... Ma... Ma l'hai fatto il generatore d'oro? No Eh... Però oggi ho fatto il generatore di diamanti Beh, non è questo Che adesso mi faccio subito la spada E... Quanti diamanti ci saranno qua sotto? Tre E basta Ma sei serio? Io ne ho dieci Poi tanto li perdi... No, perdi dieci diamanti Fra aiutami Ma ha buttato giù pure a me Con tutto il mio... Sta venendo, sta venendo, sta venendo Ma come sta venendo? Ma non c'ho... Scherzo Eh, scherzi? Ah, ma scherzi cosa? Ma seriamente non sta venendo? No, sta venendo, sta venendo, sta venendo, sta venendo, sta venendo Eh, infatti mi sembrava strano Ok, mi faccio subito l'armatura Ma è sulla... È sopra, 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 sopra ma non ci credo beh l'abbiamo buttato giù almeno vabbè si io ho 10 diamanti ah e tutto questo ci dobbiamo preparare bene perchè loro ci hanno una vieni sotto vieni sotto loro c'hanno una protezione dei fiocchi quindi ci dobbiamo aspetta ho sbagliato madonna bene che vuoi fare qua levati levati no 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 ma io mica ciò voglio di stare laggiù per tutta la partita che pensi tu sai che io sono contro ogni tipo di campering si lo so intanto con 32 di intanto ci morite dai gialli dai gialli perchè eh guarda e vabbè si è montato è che non sono io che sto parlando mi hai chiuso scusa ma ho messo il blocco come sbaglio ho preso il buco bellissimo ok guarda parla a bocce bassa perchè sennò ti tira una bestia mia addosso eh grazie ma è per quando gli avevi distrutto il no ai light blue gliel'ho fatto ma noi pensavo anche ai nostri amichetti laggiù no ancora non ho mai loro c'è una protezione fatta proprio col cioè l'hanno fatta con i piedi con il sedere si col sedere l'hanno fatta no mi sa che il rosa i purple non si sono accorti che gli sto venendo a casa oh uno dei purple è dai gialli è il momento perfetto è il momento perfetto perchè io poi gli posso distruggere l'uovo vai 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 ok ok vai ok uno sta arrivando uno sta arrivando piccala piccala ok andato vai aspetta andiamo a vedere un po' siamo una grande si altri diamanti grande ok intanto l'altro viola sta venendo quindi mi viene mi viene da aiutare si è fatto la gapple si è fatto la gapple aiutami si è fatto la gapple ah c'hai già la full iron te perfetto con la gapple vai fatto tanto non credo che tu debba avere problemi ok è andato no appunto è andato pensavo di stillarti a kill però non ce l'ho fatta ok la puoi smettere tanto c'è un giallo lasso c'è un giallo là sopra c'è un giallo lasso eh c'è un giallo qua sopra al centro guarda sta camperando sta camperando sopra l'albero sto a 17 diamanti tra poco me ne posso fa tra poco mi posso fa la full iron io comunque ridete scherzando stiamo facendo tutto oh il giallo ha deciso di andarsene dal suo posto ed è ritornato in base sua questa cosa si sa che me lo push vabbè te tanto è full leather e te sei full iron però ricordati se fa una tattica se fa una tattica infame per buttarti giù poi non dirmi che t'avevo visato ok tanto mi faccio tanti blocchi li posso li posso da sopra ok oh secondo me i green e gli orange se ci vedono dicono come cavolo hanno fatto ad essere già full iron eh si a me manca un diamante e so già e so full iron io infatti io ho la squadra di diamante io ho la squadra di diamante con affilatezza 2 e ora vado un po' a pushare ok tanto io adesso mi so fatto l'armatura in ferro perfetto tanto le robe le posso buttate oh green al centro oh piccolo green vieni qua vai ma sei figlio di satan o cosa? entrambi va bene non mi faccio domande raga non mi faccio domande bambino bambino vieni da tuo papino come se tu fossi il suo vero papino io lo sono ma vabbè mi dissocio tantissimo tanto questo qua chi chi è? ah è l'arancione l'arancione che è nudo praticamente ok lo uccid ah ma pensavo fossi te questo c'è uno che ha la tua stessa skin serio? ok ho ucciso tutte e due gli orange che erano anche erano anche scarsi sai l'orange sta viene sta cercando di venire vuole venire da me è caduto è caduto da solo non ci credo è caduto da solo un orange comunque si i green hanno l'ossidiana mi serve il tuo aiuto eh c'ho un piccolo inferno che posso fare molto scappa anzi fa una cosa scappa andiamo a lasciare gli orange ma me li sto facendo me li sto facendo ma mori te senza nulla no mi stanno mi volevi buttare giù stanno cercando comunque ti so venire da dare una mano con i i green quante quante volte le avrei uccisi almeno 27 ecco almeno quello senza armatura ok ok intanto sto cercando di mi sto facendo kill su kill intanto sto cercando eh si si so io dai porca miseria c'ho un piccolo inferno però cerco di aiutarti comunque ok ci hanno più strati ci hanno più strati devo rompere un altro blocco e forse ci sa che gli rompo l'uovo te intanto fatti tutte le ki che vuoi mi sto divertendo troppo ok vai hai rotto ok va adesso mi voglio fa qualcosa pur io ok un'andata e l'altro e l'altro sta sopra l'albero e l'altro sta sopra l'albero mi sono fatto tipo 37 infatti comunque gli orange sono scarsissimi sono gli unici che c'hanno l'uovo non sto scherzando non posso costruire qua perchè sto vicino al generatore ma sto verde dove cavolo sta andando seriamente ci sta andando a inficcare dove dove ha provato a buttarmi giù cioè ha provato a buttarmi giù ci credi? ci credo infatti i verdi qua c'è un generatore sempre a livello 1 c'ho 13 diamanti mi potrei fare mi faccio la spagna in diamante allora dove sono gli arancioni? ah ok gli arancioni ti dico sono scarsissimi li ho combattuti non c'hanno nulla praticamente prima allora e sono gli unici che c'hanno l'uovo un attimo un attimo comunque ridendo e scherzando il giallo ancora campa il giallo ancora campa andiamo dal giallo intanto qua c'è un arancione ho visto un arancione adesso sta scappando da me perchè mi ha visto con la full iron e con la spagna in diamante il loro uova ha anche protetto male facciamo rushare gli arancioni dai facciamo rushare vai 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 ok l'ho buttata giù quella che stavo inseguendo oh io ci vado io ci vado con tutto quello che ho ok c'è uno che c'ha praticamente la taschi no ok ma dai me l'hai stilato all'ultimo me l'hai distruzione ok adesso siamo due contro uno contro uno dai che adesso scappa no non ci credo che pezzo di madonna guarda adesso siamo tutti contro tutti 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 quanti tutti ma perchè poi hanno messo che il game teleport o il il giallo si sta cercando di ingegnare no no me l'ha me l'ha fatto me l'ha fatto pure a me me l'ha fatto pure a me porca miseria dai vabbè guarda il lato positivo abbiamo sterminato mezza gente vabbè però sono veramente curioso ma dove sta quell'altro così ho fatto te quante kill hai fatto quante kill hai fatto com'è che si faceva vedere apri la chat eh eh quante e come faccio a 13 eh io 11 e allora ragazzi io spero che questo video sia piaciuto mi raccomando lasciato un bel mi piace e iscriviti al canale e da infiltrator e Andrea è tutto ciao ragazzi ciao a tutti